In bici sul canale Maestro della Chiana è stata infatti inaugurata la passerella ciclopedonale sul canale Maestro della Chiana in località ex Cerace nella riserva naturale regionale di Ponte Buriano e Penna. Si tratta di un vero e proprio punto di raccordo fra la ciclopizza dell'Arno che proviene dal Casentino e il sentiero della Bonifica in direzioni chiusi. La passerella si trova infatti in prossimità dell'area umida in cui il canale Maestro si mette nell'Arno, una delle aree di maggior interesse naturalistico e più sensibili della riserva e dell'intera provincia di Arezzo. Il progetto della passerella ciclopedonale sul canale Maestro della Chiana di Ponte Buriano approvato dalla provincia di Arezzo nel 2014 è di 680.000 euro. L'importo è stato finanziato per circa 470.000 euro dalla regione toscana e la restante parte dalla provincia di Arezzo che ha anche redatto il progetto, il bando di gara e diretto i lavori. La passerella pesa 78 tonnellate, è lunga 45 metri ed è formata da due travi in acciaio corten che non richiede manutenzione e si sposa bene con il contesto ambientale. Ha un valore strategico nell'ambito del progetto della ciclopista dell'Arno, la principale delle grandi vie ciclabili in via di realizzazione in Toscana, 400 chilometri lungo il corso dell'Arno e che, proprio grazie a questa passerella, si collegherà da adesso al tracciato del sentiero della Bonifica lungo il canale Maestro della Chiana.